Allora, cominciamo a parlare di mobilità, che sarà il tema che ci accompagnerà oggi, è anche un tema rilevante che accompagna tutto il mondo, insomma. E ne parliamo commentando proprio la missione 3 del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, quella dedicata alle infrastrutture. Come sapete, è anche la missione che mira a rendere entro il 2026, lo dico a beneficio di tutti, il sistema infrastrutturale italiano più efficiente, digitale e sostenibile. E sapete quanto ne abbiamo bisogno. Per farlo, inviterei qui con me Marco Maggiorino Perinotti, che è rappresentante del gruppo di lavoro della PNR Task Force sulla missione 3, per farci un overview sugli obiettivi, le linee di finanziamento e i progetti anche dedicati al tema delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Prego Marco. Buongiorno a tutti, sono Marco Perinotti, del Team 3. Vorrei iniziare ringraziando CEO4Life, l'Università Luis e tutti CEO della community, in particolare il dottor Cesare D'Amico. Il compito del team era quello di sviluppare idee nell'ambito del punto 3 del PNRR, che riguarda tanti trasporti. In questo contesto abbiamo avuto l'opportunità di entrare in contatto con Cesare D'Amico, CEO della D'Amico Shipping, e sulla base dell'approfondimento di quello che è il loro operato, in ambito sia nazionale che internazionale, siamo venuti a conoscenza del loro interesse e dell'impegno sui giovani e sulla loro formazione in ambito nautico e della realizzazione di un ITS a Gaeta intitolato a Giovanni Cavuoto. La nostra idea, vista la precedente esperienza della società, è stata quella di coinvolgerla nella realizzazione di un sito simile, alla luce degli obiettivi del PNRR, nel territorio del porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Il porto in questione è un'eccellenza italiana perché nel 2019 è divenuto il secondo porto in Italia per il numero di movimenti di container. Ad aprile di quest'anno ha visto un aumento del 28% dei traffici trimestrali e punta a chiudere l'anno con 4 milioni di TEU, che è un'unità di misura standard per misurare i container. Dunque, in ambito del nostro progetto, è un'area ad altissimo potenziale, considerando anche i territori che sono inutilizzati nel circondario e che garantirebbero quindi una forte integrazione tra l'ITS e il porto. Per quanto in quanto invece la scelta di un ITS, essa non deriva soltanto dalle passate esperienze della società, ma anche da uno sguardo al mondo del lavoro. Alcuni mesi fa, Confitarma ha evidenzato la mancanza di ufficiali e di direttori di macchine in grado di interagire con le più moderne tecnologie a bordo. Se analizziamo l'attuale sistema economico, notiamo uno scostamento tra domande ed offerte di lavoro, sia per quanto riguarda mansioni specializzate, sia per quanto riguarda operai qualificati. In Education Capitale Umano, Confitarma, ha inoltre chiesto di avviare specifici progetti di informazione e di orientamento, sin dalle scuole medie, per illustrare tutte le possibilità che possono provenire da una carriera a bordo e che gli ITS possono offrire. Inoltre, notizia di qualche settimana fa, i recenti lockdown di Shanghai hanno imposto ulteriori spedizioni logistiche per quanto riguarda il trasporto di merci sia via terra che via mare e quindi hanno anche, sono tamonito per l'Italia e per l'Europa, la necessità di avere un sistema di infrastrutture forte e guidato da operatori qualificati. In secondo luogo, la scelta è stata guidata anche dalla regione in cui l'ITS nascerebbe, che è la Calabria. L'inaugurazione di un nuovo centro avrebbe innanzitutto la doppia funzione di prevenire l'esodo di giovani studenti fuori dalla regione e di dotare la regione di personale qualificato al suo interno. In secondo luogo, la nascita di un ITS coinvolgerebbe anche la nascita di altre aziende che fornirebbero bene i servizi necessari all'ITS per funzionare ed in ultimo avrebbe anche lo scopo di aumentare il reddito medio Calabro che è inferiore a quello di un lavoratore che si è diplomato in un ITS. Per queste motivazioni abbiamo ritenuto coerente la scelta di proporre ad Amico Shipping il seguente progetto. Gli obiettivi che il progetto si permette di conseguire sono i seguenti. Rilancio dei territori del sud, innovazione e ricerche in ambito marittimo alla luce anche del Green Deal, investire sui giovani e sull'ora formazione e garantire l'aumento dell'occupazione in un mercato che attualmente sta affrontando un calo dell'offerta di lavoro. Allora, il team si è incontrato più volte, sia modalità online che modalità in presenza nel rispetto delle normative vigenti. Lo scopo principale degli incontri è stato quello di approfondire le tematiche che più sarebbero state idonee per fornire un progetto atto a ottenere fondi statali e ad apportare un beneficio a tutta la comunità. Nel primo incontro con il CEO Cesare D'Amico è stato ottenuto il bisogno di formare nuovi giovani in grado di sostenere i ritmi di commercio sempre più elevati. In una seconda visita che gli studenti hanno fatto alla sede centrale di D'Amico Shipping a Roma il gruppo è stato accolto dal HR Group Director Francesco Rotundo e dal Communication Manager Ilari Armani e la loro pazienza e la loro disponibilità ci ha aiutato a chiarire tutti i dubbi che potevamo avere circa il funzionamento di un ITS. In ultimo è stato un incontro con il dottor Clemente Borrelli che è stato il protagonista della creazione dell'Istituto Giovanni Caboto e in questo incontro purtroppo noi giovani ci siamo dovuti scontrare con le difficoltà provenienti da un lato dalla tortosità delle barriere burocratiche all'ingresso e dall'altro anche con le difficoltà necessarie per ottenere tutti i certificati necessari all'avvio dei corsi. Allora prima di terminare vorrei ringraziare a nome di tutto il team Cesare D'Amico Francesco Rotundo Ilari Armani e Clemente Borrelli per la loro immensa disponibilità e per la chiarezza di mostrateci durante tutto il nostro percorso. In ultimo vogliamo ringraziare CEO4Life per averci consigliato di partecipare a questa iniziativa e l'Università LUIS. Il PNRR è una grande opportunità di crescere e miglioramento sia per il nostro Paese che per la nostra generazione e le future generazioni che si stanno affiacciando sul mondo del lavoro e potranno far parte della futura classe dirigente. Per questo motivo chiediamo serietà e impegno nella gestione di questa immensa opportunità che ci sta venendo offerta. Grazie mille per l'attenzione. Grazie mille per l'attenzione.